Galileo, dai Davvero, sto facendo sta cosa Ve lo devo presentare Quello col nome al singolare e il cognome al condizionale Colui che togliendosi le mutande ebbe le intuizioni per costruire sia il pendolo che il telescopio Lui che tirava i sassi direttamente dalla torre di Pisa solamente per capire se effettivamente cadevano tutti e due con la stessa accelerazione Lui che diede una formula matematica al motivo per cui i testicoli di Archimede galleggiavano nell'episodio 1 Lui, esattamente lui, aveva due passioni E la seconda era il cielo Ne era talmente ossessionato da perderci la vista Perché quello che leggeva qua giù era molto diverso da quello che vedeva lassù Infatti all'epoca i testi, più e meno sacri, citavano la teoria telemaica come quella corretta La terra al centro e gli astri che ci giravano attorno La chiesa ne era talmente convinta che il cardinale e granduca Ferdinando I dei Medici Fece costruire una sfera armillare, sostanzialmente una riproduzione in 3D del moti dei pianeti Ma voleva che rimanesse per sempre Quindi incaricò l'artigiano Santucci di utilizzare un materiale che fosse sia resistente Ma che non si deteriorasse troppo col passare del tempo Essendo un ente religioso no profit, quindi per questo ancora oggi non pagano le tasse Decisero di realizzarlo con quel poco che avevano a disposizione Qualche quintale di faggio e d'oro zecchia C'è da dire che l'obiettivo fu ampiamente raggiunto in quanto è possibile tutt'oggi vedere la sfera nel Museo Galileo di Firenze Vedi tu che eronia la storia E anche oggi la marchetta gratis l'abbiamo fatta Galileo però era afflitto da una domanda Ma se noi invece di prendere come punto di riferimento fermo la Terra E creare degli epicicli per ogni pianeta che riusciamo a vedere Tenessimo fermo il Sole e facessimo girare tutto il resto intorno ad esso Ecco non sarebbe più semplice Non ci sono fonti certe ma si pensa che Sagredo lo avvertì Stai attento perché manco dieci anni fa il Santo Uffizio si è fatto Giordano Bruno con patate Solo perché aveva avuto le tue stesse intuizioni Ma sulla Bibbia c'è scritto che Giosuè fermò la Terra Tu non è che puoi presentarti qua bello come il Sole e far girare tutto il resto attorno ad esso Ma, perché c'è sempre un ma, c'era un certo Copernico che la pensava proprio come te Prova a leggere quello che ha scritto, magari torna utile Ma mi raccomando, non farne parola con nessuno Ragazzi, ho scoperto che la Terra gira intorno al Sole Continuando questi studi aveva infatti trovato l'evidenza che confermavano totalmente le teorie di Copernico E li aveva divulgati sia durante le sue lezioni universitarie che col suo libro Dialogo sui massimi sistemi del mondo Lo avete mai letto? No? Nemmeno io Sto ancora aspettando che esca il film In breve, il dialogo si svolge tra il super Chad Filippo Salviati Astronomo e scienziato fiorentino che sostiene la teoria copernicana E l'anacronistico, per non dire tardo Simplicio Che sostiene la teoria telemaica Il terzo sagredo, amico di Galilei ma che si limita a fare domande agli altri due Il nome Simplicio ricorda quello di un famoso commentatore delle opere di Aristotele Ma il libro non fa esplicitamente riferimento a lui E il nome stesso sa molto di Sempliciotto Ovviamente non porta con sé argomentazioni forti Al contrario di Salviati E si pensa che il Simplicio fosse un riferimento molto implicito a Papa Urbano Ed il libro era strutturato con un dialogo proprio perché non poteva far trapperare le idee Che Galileo nutriva sul moto dei pianeti attorno al sole Grazie alle sue teorie innovative e l'invenzione del cannocchiale Che ben si prestava a utilizzi di svariato genere Si era guadagnato la simpatia di varie eminenze dell'epoca Tra cui lo stesso Ferdinando dei Medici Il principe Federico Cesi Il cardinale Francesco Barberini E lo stesso Papa VIII Che lo accolse a Roma come Alì Principe Alì Alì Ababua È un po' come se oggi Papa Bergoglio Accogliesse Adrian Fartade in limousine Circa Ma non tutti erano felici o contenti dell'operato di Galileo Durante i suoi studi infatti Il virus dell'HIV Su richiesta di Tommaso Caccini Fece notare al cardinale Bellarmino Che effettivamente Galileo Stava confutando la teoria tolemaica Bellarmino allora diffidò Galileo Dal diffondere le teorie di Copernico Attraverso una dichiarazione che dovete firmare Anche se si ritiene che tale documento Fosse un falso Ricordiamo poi che Bellarmino è lo stesso Che portò la carbonella per il processo di Giordano Bruno Caccini fece pressione anche su Papa Urbano Affinché Galileo venisse messo a rogo Successivamente alla pubblicazione del dialogo Sopra i due massimi sistemi del mondo In sua difesa intervenne Ferdinando dei Medici Affermando che il libro fosse dedicato a lui Che nulla del testo offendeva la chiesa E soprattutto che il Papa stesso aveva dato il permesso a Galileo di pubblicarlo Al che si presenta lui Gaspare Borgia La celebrità che riuscì a convincere il Papa A mettere Galileo sulla gogna della Santa Inquisizione Papa Urbano lo incarcerò nelle stanze della Santa Inquisizione Con l'accusa di aver preso in giro le autorità ecclesiastiche per questo trattato E incarincò Vincenzo Maculani Detto vinco da Fiorenzuola Di svolgere gli interrogatori Ascolta Galileo Qui le opzioni sono due O affermi sinceramente di non aver nemmeno il dubbio Che la terra sia il centro di tutto E che gli amici immaginari di Urbano Spingitori di pianeti Facciano gelato tutto attorno a noi Oppure sono torture più rogo Cosa scegli? Eh Galileo? Cosa? Dio? E per Dio intendo voi manica di stronzi Mi ha ordinato di non credere che la terra giri intorno al sole E io devo obbedirmi Quindi sì Abbiuno Dio intendo voi manica di non credere che la terra giri intorno al sole